Lei avrà un 50-52 anni, ma lei come si sta comportando? Ma io semplicemente, cosa vuole, ho chiuso l'ufficio, ho detto ai collaboratori prendetevi il computer, se c'è qualcosa di urgente ci sentiamo, altrimenti cerchiamo di lavorare ognuno per conto suo. Oggi sono uscito solo per portare il patume nel cassonetto. Ecco quello che ho fatto oggi, del resto sono stato in casa, starò in casa anche domani, faccio il tapirulà per tenermi in forma e così via. Poi leggo, 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 non ho mai letto tanto. La malattia è sempre un momento di... Forse divento sapiente. Saggio. Senta, professore, lei ha girato pure molto il mondo. Ne ha incontrate situazioni così, come in Italia, in Cina, in Arabia, nel Sud America, in Africa? No, di novità così forti, di cambiamenti così forti, è difficile averli. Vedi, pensavo in questi giorni. Io ho compiuto 80 anni, ho girato il mondo, ne ho visti di tutto. È la prima volta in 80 anni che non vado a messa la domenica. Si rende conto che così lasci stare l'aspetto sacrale, l'aspetto personale e religioso, ma sono andati in America, ha messo in Arabia Saudita, in Turchia, in Cina, eccetera, e non a Bologna. Capisci? Quando queste cose ti colpiscono, è chiaro che uno si rende conto del grande cambiamento personale che queste cose ti toccano. A qualcuno saranno altri sentimenti, altri... Però c'è certamente un cambiamento molto forte nei nostri sentimenti. Ora, professore...